La religione come mezzo per unire l'umanità, oltre che per salvarla. La vita, la morte, la sofferenza e il perdono dalle religioni arcaiche ai nostri giorni lascia stupefatti l'audacia di questo Words with Gods. Nove grandi registi, in parte credenti, in parte no, affrontano, come dice il titolo, il discorso su Dio, su impulso di Guglielmo Arriaga, lo sceneggiatore di 21 Grammy e Babel e del premio Nobel per la letteratura, Mario Vargas Losa. Tante le storie, Hector Babenco, il regista del Bacio della Donna Aranio, racconta di un uomo che fa pace con la drammatica distruzione della sua famiglia. L'indiana Mira Nahir, la regista di Monsoon Wedding, ci racconta come Dio sia dentro ognuno di noi e di come all'interno di una famiglia in lite solo un bambino sia in grado di vederlo. C'è persino il regista horror Ideo Nakata, con il dramma della perdita dei familiari a causa di uno tsunami e il confronto tra il capofamiglia e un monaco buddista sul senso della vita. Amosh Kitai affronta il conflitto israelo-palestinese con citazioni di salmi e profeti, ma i risultati più alti sono quelli dell'ortodosso Kusturitza nel ruolo di un monaco che scala le vette della fede. Sorprende invece il trasgressivo Alex della Iglesia che racconta la religione cattolica con la storia di un killer che alla fine della vita riesce a dare e ricevere perdono. Episodi quasi tutti di altissimo livello, tecnico e non solo, musica di Peter Gabriel, con alcune costanti bellezza e natura come emanazione di Dio e sofferenza come momento di crescita. Insomma, un grande viaggio alla ricerca del senso della vita con la certezza che unisce credenti e non che la religione possa fornire all'umanità gli strumenti per esistere, vivere e soprattutto condividere.